eccoci da malo macchine a malo in provincia di vicenza stiamo vedendo una scopa una benna scopa a terra ma in questo momento eccola come magia ma non è una magia gli amici di malo macchine l'hanno collegata a una mini pala che il cliente aveva acquistato tempo fa da loro ma aveva bisogno di una benna scopa ed eccola pronta collegata e pronta da provare in diretta per noi perché il cliente aveva bisogno proprio di pulire spazi impervi grandi spazi ed è il momento della prova per così dire su strada oppure potremmo proprio dire prova su piazzale perché va proprio bene il cliente è soddisfatto e sono certo siamo certi lo sarete anche voi quando vi farete consigliare al meglio dagli esperti di malo macchine a malo in provincia di vicenza questo è molto altro per voi da malo macchine